Grazie. 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 per la produzione diändra di movimento Bruno di leviamo alattari per la stazione di automazioni di comodità per elemane, per coi possiamo fare la produzione di autosidrati per la produzione, per il caso lesi sono state llegati per la fasi di più 3 o 4 volte per il centro del comodo un'escrizione da qui si facciamo il tema di paracidio sull'imitore da l'imposte da l'imposte, da l'imposte da l'imposte. Ora vediamo che è un po' di interiore. Qui si può vedere un po' di interiore. Qui si può vedere un po' di interiore. Il carbon, che è interessante, è il suo materiale molto svitio e meccano, come quando si tratta di una canina. Il carbon è stato pre-impregnirato, ha già in seguito il smolo, ma la smola reagisce alla temperatura e pritisco. Il carbon è stato meccano, il carbon è stato rilasciati slojevi, rilasciati comadi, non sono stati nerazziati elementi con cui si fa una parte. Dopo che c'è l'auto, c'è la nevera, c'è la Bugatti è di Cagona, è una cosa che non si utilizza in un'auto normale. ... ... ... Sì, non è un po' di farlo, non è un po' di farlo. è stato che sono grandi grandi di elementi, sono stati di batteria con 700-800 kg, è stato un grande di. Mi produciamo un grande gruppo in Hrvatsko e lo vendiamo in Niemacca o dove i mi sono trovati, perché è una situazione che si chiede che si produzi un grande gruppo in questo gruppo, ma non si è uspito di vietare che è meglio da lavorare a questo perché è stato un' più complexa che sono inženieri di più di produzione. e per questo sono spremi extra platini. Questo sono Turbion prototipi, che si rade per crash testove, testare, per la vozione di stazze, per la certificazione. Ci si radevano ovunque, quindi siamo tu in possibilità di provvedere tutte le auto, ma quando si radevano trasferiamo in Francia scoprò ovunque, per quanto riguarda Francia. Questo è il caso nema che grossi o giovani o inglesi molto non si può fare printano e poi si vede che è struttura come costa, organica struttura. Sì, siamo... e 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